presentazione presentazione Sposa 2012, quali sono le novità? Quest'anno le novità per la sposa sono diverse, si è ritornato all'abito romantico, come possiamo vedere dall'immagine è abbastanza ricco, pieno di cristalli svaroschi e con le gonne molto ampie, in tulle o in organza di secca. Una delle lavorazioni particolari che sono state proposte per quest'anno sono gli svaroschi su un pizzo intagliato e incastonato, questa è una delle novità in assoluto che questa sera, in questa manifestazione Sposa dei Due presenteremo. Come potete vedere la brillantezza degli svaroschi rende unici questi abiti e quindi anche indimenticabile il momento del matrimonio. Parliamo di accessori? Sì, si sono cambiati anche un po' gli accessori, possiamo vedere delle collane particolari in cristallo svaroschi rigido, quindi dei collieri o dei serracolli e delle forcine che richiamano appunto i ricami che abbiamo nel cortino. Tutto ciò ha accompagnato anche dai bracciali che vengono messi alle ragazze. Un buon motivo per indossare un capo Sposa Montanti.